La ripartenza del paese è attrazione artigiana. Capire dove è diretta la nostra economia e quali nuove esigenze hanno le imprese nel post-pandemia, tra formazione continua e innovazione della tradizione, diventa imprescindibile. Sono queste le premesse che hanno spinto Confartigianato e Impresa Ancona a Pesaro Urbino a lanciare una sfida, un'intera settimana di incontri ai massimi livelli, tra istituzioni, mondo universitario e del lavoro. Si intitola Ars Ingenium, la settimana dell'artigianato, che gode del patrocinio della Regione Marche e del Comune di Senigallia e si terrà dal 27 settembre al 3 ottobre alla Rotonda Mare, sette giorni di convegni, approfondimenti e anche l'apertura di una mostra, assieme alla presentazione della pubblicazione Ars Ingenium, eccellenze ed emozioni. Un viaggio speciale raccontato dal giornalista Maurizio Socci attraverso i territori, le tradizioni, la creatività dei maestri dell'artigianato artistico di Ancona e Pesaro Urbino. Vediamo che le piccole imprese sono state molto reattive nel partire, abbiamo bisogno però di una squadra dietro perché le difficoltà sono dietro l'angolo e a partire da quando finirà il famoso 110%, ma comunque sappiamo già che anche tante altre attività che stanno andando molto bene hanno criticità nella fornitura, nell'approvisionamento delle materie prime e quindi vogliamo parlare di tutto questo per far sì che il nostro tessuto imprenditoriale possa affrontare le sfide di una competizione globale, come dicevo prima, non da solo ma con tutto il sistema che c'è attorno, a partire dalla politica e dal sistema politico nostro. Il programma degli eventi è ricco e intenso, si partirà lunedì alle 17 con il taglio del nastro per la mostra e il convegno d'apertura in cui si discuterà delle prospettive di sviluppo per l'artigianato, delle necessità delle micro e piccole imprese e degli strumenti a sostegno del comparto alla luce dei cambiamenti epocali del nostro tempo che impongono scelte strategiche. Nei giorni successivi invece si darà spazio ai giovani, all'artigianato 4.0, a quello locale, fino alla creatività come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'attività d'impresa. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul nostro sito occhioallanotizia.it. Abbiamo visto come oggi è difficile trovare giovani o persone che vengono a lavorare, c'è un tema occupazionale serio, il tema anche del reddito di cittadinanza, l'obiettivo che si era prefissato non è stato raggiunto, anche sulle pensioni minime dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo lavorare sul senso di comunità, riportando al centro dell'agenda politica del nostro Paese i valori sani, cercando di aiutare le persone a lavorare, a inserirsi nel mondo del lavoro, perché poi ricordiamoci che le micro e piccole imprese sono quelle che rimangono sul territorio e investono nel territorio e se noi vogliamo il futuro del territorio dobbiamo investire sulle micro e piccole imprese.